Una processione candele alla mano per le vie del paese in ricordo di Erika e Maria, le due giovani sorelle di Acqua Pesa recentemente scomparsi a seguito di un violento incidente stradale. La fiaccolata in loro onore è prevista per il pomeriggio di domani, mercoledì 30 ottobre, ed è stata organizzata dagli amici delle due ragazze per ricordare il loro profilo umano, ma anche gli squarci di luce nel buio di questa triste vicenda, come il gesto dei genitori di donare gli organi. Un gesto che è stato più volte sottolineato anche nel corso dei funerali di Maria, la più giovane delle due sorelle, come forte segnale di speranza per le persone destinatari dell'ascito. Il raduno per la fiaccolata di domani è previsto alle 17 a Marina di Acqua Pesa, di fronte alla chiesa di Santa Maria degli Angeli. Poi si svolgerà un corteo che percorrerà le vie del comune tirrenico fino al centro storico e alla chiesa di Santa Maria del Rifugio, già luogo dei funerali di Erika e Maria, dove sarà celebrata una messa dal parroco Don Giacomo Minervino. Gli organizzatori della fiaccolata indosseranno una maglietta bianca con impressa la foto di Erika e Maria. La vicenda ha destato un profondo sentimento di cordoglio tra gli abitanti di Acqua Pesa, dove le due sorelle erano molto conosciute. Lo schianto è avvenuto nella sera dello scorso 16 ottobre, intorno alle 21, proprio al bivio sulla SS18 per Acqua Pesa. Erika e Maria stavano rientrando a casa a bordo della loro auto quando sono state urtate da un altro veicolo. Erika, la più grande, è morta sul colpo, mentre Maria è spirata sei giorni dopo dal suo ricovero in coma nel reparto di rianimazione dell'annunziata di Cosenza.